Deteniamo che fino a quando io non posso prendere visione di questa relazione, ripeto, dal Ministero dell'Interno e dall'Istat, di non poter comunque poter interpretare la norma in tutte le sue eventuali spazzettature. Per cui richiedo, possibilmente, il prima possibile di poter prendere visione di questa relazione. Grazie. Allora, Presidente Mazzotti di Celso, prego, se mi dà qualche informazione su questo documento. Sì, Presidente. Il documento, in realtà, dei dati ufficiali del Ministero dell'Interno non sono pervenuti ed è questo il motivo per il quale non è stato circolato nulla la Commissione. Abbiamo chiesto di avere dal Ministero dei dati, che riguarderebbero comunque l'articolo 2, non l'articolo 1, perché riguardano la successiva norma della legge. Se questi dati perverranno, ovviamente saranno messi a disposizione, ma non c'è nessuna relazione del Ministero degli Interni da distribuire. Grazie. Va bene. Allora, Deputato Caparini, prego. Sì, grazie, Presidente. Alla luce proprio di quello che è stato detto dal Presidente della Commissione, a noi mancano gli elementi fondamentali per deliberare, nel senso che non sapere quali sono i numeri che interessano una misura di così importanza come quella che stiamo state per approvare, evidentemente non ci mette in condizione di svolgere il nostro lavoro. Dato che siamo tutti sicurissimi che queste cifre sono già in possesso del Ministero, sulle quali immagino avrà anche fatto delle elaborazioni e anche delle proiezioni, chiediamo che ci vengano messe a disposizione prima di iniziare il dibattito. In altro modo diventa veramente impossibile deliberare a cuor sereno e soprattutto in coscienza. Allora, Presidente Mazzotti, prego. Sì, grazie, Presidente. Solo per fare un po' di chiarezza, i dati di cui si parla, di cui siamo in attesa, sono i dati che riguardano esclusivamente la norma transitoria, ovviamente. Quindi si tratta di una parte, della parte finale della legge, sull'articolo 1 e sull'articolo 2, che prescindono totalmente dalla norma transitoria. Ovviamente si può deliberare certamente. Se questi dati verranno messi a disposizione dal Ministero degli Interni in una versione ufficiale, verranno ovviamente distribuiti. Allora, c'era il deputato Vito che alza il regolamento, prego. Sì, signor Presidente, perché appunto voglio svolgere...